Un allevatore ucciso e uno ferito. E questo il bilancio di un agguato messo a segno stamattina attorno alle 11 in agro di Villa Grande e Strisairi, in località Santa Lucia, nei pressi della Diga, lungo la strada che conduce a Girasole. La vittima è Fabio Longoni, 39 anni, di Villa Grande. Il ferito si chiama Davide Angelo Conigiu, di 37, colpito da un ufficilato ad un polpaccio. Il corpo senza vita di Longoni, che era riuscito a scappare, è stato trovato diverse ore dopo dai carabinieri a pochi passi dall'ovile. Sul posto sono intervenuti i militari della compagna di Lanusei, diretta dal capitano Claudio Papparella, i colleghi della stazione di Villa Grande. Sul posto anche i militari del comando provinciale di Nuoro. I carabinieri del nucleo investigativo hanno passato al settaccio la scena del crimine per ottenere informazioni utili a ricostruire le imboscate e capire quanti malviventi abbiano agito e quanti colpi siano stati esplosi. Sarà l'autopsia disposta dal magistrato a chiarire le cause del decesso di Longoni, raggiunto dalle fucilate e esplose dal killer. Quanto a Conigio è stato ricoverato nell'ospedale di Lanusei e non è in pericolo di vita. I militari hanno avviato le indagini per dare un nome ai killer. Nelle prossime ore il magistrato di turno e gli investigatori sentiranno il ferito per avere informazioni di prima mano sulla dinamica dell'agguato.